Musica Tre spettatori ben ritrovati con l'informazione di Teli Diogione, grande cordoglio nel mondo politico e istituzionale per la scomparsa di Maria Teresa Ligotti, ma cordoglio anche tra le tante persone che hanno avuto il piacere e l'onore di conoscerla. Una donna che verrà ricordata per il suo impegno politico e per il suo impegno in tante importanti battaglie in cause sociali. Tra l'altro è stata anche la prima donna a essere stata eletta in seno al Consiglio regionale della Calabria. Ieri è venuta a mancare, all'età di 70 anni, Maria Teresa Ligotti. Chi è Maria Teresa Ligotti? Nel 1978 Maria Teresa Ligotti si è iscritta al Partito Comunista Italiano, è diventata subito un dirigente importante ed è stata candidata alla Regione Calabria. Alla Regione Calabria c'è stata per due legislature, perché queste erano le regole di quel partito. Più di due legislature non poteva farlo nessuno. E poi da 78, quindi, 10 anni all'88 è stato consigliere regionale della Calabria, dove si è distinta per la grande capacità e la conoscenza dei problemi. è stata una delle relatrici della legge 5, quella dei servizi sociali, si può dire che è stata la madrina. Maria Teresa Ligotti è stata la prima donna eletta al Consiglio regionale della Calabria. E' stata lei a rappresentare per la prima volta nella storia di questa regione le donne in quel consesso regionale. Quindi personaggio di primo piano in Calabria a Crotone. Nel partito ha sempre svolto il ruolo che le hanno assegnato, senza polemica, senza una persona riservata, anche se conosceva le cose, sempre corretta, me la ricordo le ultime interviste che le ho fatte, perché ultimamente, come sempre fatto, si è impegnata nella sanità. Era una dializzata, una malata nefropatica, e in prima persona ha seguito la vicenda del reparto di nefrologia. Lei ha dato quel contributo di conoscenze, di leggi, di norme, che avevano consentito all'associazione di idealizzati di ottenere qualche risultato per non chiudere il reparto. Lo si deve pure a lei. Ovvio, l'associazione ha svolto un ruolo complessivamente importante, ma lei ha dato il suo contributo sempre con quella sua modestia, che non era modestia culturale, attenzione, perché è una persona molto molto preparata e lo ha dimostrato. Ma quando andavo a intervistarla perché avevo contezza delle sue conoscenze sanitarie, lei avrebbe preferito sempre non farsi intervistare, avrebbe preferito lasciare il microfono sempre agli altri. Poi quando interveniva, ve la ricorderete sicuramente, quando interveniva le cose le snocciolava nella maniera giusta. Quindi ieri è venuta a mancare. E' venuta a mancare la conoscenza, direi anche dal fatto che è stata presidente dell'azienda sanitaria locale di Crotone. È stata presidente dell'azienda sanitaria locale. Quindi era una persona che conosceva gli argomenti. Sulla morte di Teresa Licotti, il Partito Democratico Crotonese regionale ha diffuso una nota breve che vi leggo. Oggi, quindi è stato diffuso ieri pomeriggio, è una giornata di lutto per il Partito Democratico Crotonese calabrese. E' morta la compagna Maria Teresa Licotti, dirigente di grande livello provinciale, regionale e nazionale. Maria Teresa è stata un punto di riferimento e di direzione politica per tutto il Partito. I tratti suoi fondamentali, una grande umanità e solidarietà umana, oltre che una grande e vasta cultura politica, economica e sociale. Il suo contributo di elaborazione di proposte progettuali alle istituzioni regionali e locali è stato di grande livello ed è stato apprezzato in tutte le sedi politiche del nostro partito e non solo. Lascio un vuoto profondo in tutti quelli che l'hanno conosciuta, stimata, e per tutti i compagni e concittadini che l'apprezzavano per la sua umanità, disponibilità, senso dello Stato e profonda onestà politica e culturale. Un pensiero di forte vicinanza, conclude il comunicato ai suoi cari familiari. Ed un saluto a te, compagna Maria Teresa, restarei per sempre nei cuori di tutti noi da portare ad esempio alle future generazioni. E vogliamo continuare a ricordare l'onorevole Maria Teresa Ligotti riproponendovi un'intervista che proprio con lei abbiamo realizzato appena un anno fa e che testimonia laddove ce ne fosse bisogno ancora una volta il suo grande impegno, in questo caso nella tutela della sanità crotonese. Persone malate che riescono a fare riflettere la regione Calabria. A Crotone ci voleva, l'onorevole Ligotti. Ci voleva perché ci siamo dimenticati anche della nostra storia. I malati di nefrologia avete dato dignità a questo territorio. Siete riusciti a fare ragionare la regione Calabria che aveva chiuso di fatto il reparto di nefrologia. Sì, è vero. Credo che sia stata una cosa molto importante questa azione dei malati. Lei sa che veniamo da mesi e mesi di trattative, di incontri, di riunioni, di promesse, di impegni, però di fatto il 16 settembre la nefrologia è stata chiusa perché le indicazioni regionali dicevano che la nefrologia a Crotone sparisce. Come nefrologia, le modiali, se evidentemente è un'altra cosa. A questo punto l'iniziativa assunta dai malati che con molta fermezza e in maniera civile e democratica hanno portato avanti questa lotta e sono malati per cui fare i turni, presidiare... Non hanno il raffreddore che hanno presidiato notte, giorno, tutta, in questi quattro giorni il reparto ormai chiuso di nefrologia è servita, io credo che sia servita. È servita a riproporre all'attenzione il problema, cioè a farlo uscire dalle stanze e anche dai giornali, dalla stampa e rimetterlo proprio al centro dell'attenzione sia delle istituzioni locali che delle istituzioni regionali. È servita a far riflettere. Era un grande errore chiudere la nefrologia. Si è riparato ad un errore. D'altronde ieri che abbiamo avuto l'incontro a Catanzaro presso il Dipartimento di Sanità con il commissario Scaffidi oltre che al Presidente Scopellini... Con il subcommissario Delia? No, noi ci siamo incontrati con il subcommissario Scaffidi che è quello che segue i problemi più... Più regionali. ...della sanità. Delia pare che sia quello esperto in problemi più economici. Quello nazionale. E lui invece... No, no, sempre qui però sono i due commissari e i problemi più spettamente legati alla sanità. Ha riconosciuto che le nefrologie e le dialisi della Calabria sono state sempre all'avanguardia, un punto importante di riferimento. non solo locale, hanno dato lustro alla Calabria perché sono state riconosciute come centro di eccellenza anche a livello nazionale. Compresa l'Asdl e la nefrologia di Crotone dalla quale sono usciti non solo professionalità locali medici e infermieri ma professionalità sia mediche che infermieri che hanno consentito l'apertura di altri centri come San Giovanni in Fiore, come la stessa Rossano vengono tutte dall'esperienza di Crotone. Si è riparato... Crotone ha fatto scuola. Ha fatto scuola, Crotone ha fatto scuola. Si è riparato quindi ad un errore. Sta bene tutto quel che finisce bene. Adesso si ripristinerà l'unità operativa di nefrologia. Ma non è autonoma, dice Nostro. C'è nel senso che... No, 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 parla di autonomia. Ieri... No, 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 nel senso l'ho già intervistato. Nostro dice faranno sempre riferimento legalmente a medicina. Scusi, no. No, 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 così dice. Le sto riportando a quello... Ieri abbiamo concordato un'altra cosa. No, no, quello che dice Nostro le sto riportando. Fa riferimento legalmente però a una propria autonomia organizzativa. Ma io non lo so se il professore Nostro intende a dire che fa parte dell'area medica. Perché la nefrologia fa parte dell'area medica. La cosiddetta AFO che sarebbe questa area funzionale operativa medica. Però ieri si parlava perché è arrivato il primario Pino Rizzuto da San Giovanni in Fiore. Il primario di nefrologia. Il primario di nefrologia. Comunicativo che professionale. Ieri si è detto sarà affidata al primario nefrologo. Poi se si devono perfezionare i termini sarà a compito di nostro. Ieri abbiamo parlato poi a fine della riunione proprio su questo aspetto più tecnico. E si è chiarito che avendo una sua autonomia non è più una struttura all'interno della struttura complessa di medicina. Ma che sarà sotto la responsabilità diretta del dottore Rizzuto. Questo significa le cartelle cliniche, significa le dimissioni, significa tutto quello che poi è l'organizzazione di un reparto importante come la nefrologia. Voi sapete che faceva tanta prevenzione, ci sono i malati peritoneali, c'è gli accessi vascolari, c'è le cosiddette fistole. Quindi si fanno interventi di chirurgia vascolare. Cioè riprende le sue attività come le svolgeva fino al 16 stemmi. Certo, sappiamo che in questi ultimi tempi ci sono state delle tensioni, delle preoccupazioni, per cui qualcosa non ha funzionato. Perché è evidente che quando gli animi non sono tranquilli, qualche cosa può anche non andare fino in fondo. Però credo adesso ci sono le condizioni di serenità, sia da parte dei pazienti che da parte degli operatori sanitari, per riprendere, per continuare il lavoro. Perché dobbiamo dire la verità, l'assistenza ai malati, i medici e gli infermieri non l'hanno mai fatta a medici nemmeno. Che sono persone eccezionali. Perché sono persone, sono veramente persone eccezionali. E quindi voglio dire, da questo punto di vista i malati, i malati sono stati tutelati, seguiti, coccolati, perché se vengono coccolati questi malati dal personale medico-infermieristico, come è stato sempre in tutti quegli anni. Perché hanno un know-how, lo ripetiamo, hanno un know-how. No, in particolare, sono personale altamente qualificato professionalmente, per cui anche disperdere queste professionalità, mortificare queste professionalità, sarebbe stato un danno grave per la sanità crotonese. Allora, noi vogliamo, dico, credo che si possano fare ulteriori correttivi, perché non vorrei che ci scolassero voci allarmanti sul dove si prendono posti letto. Io credo che, riflettendo bene, nell'ambito dell'area medica, ci sono le condizioni, anche perché ci sono 30 posti multidisciplinari che possono essere utilizzati, anche se diurni, ma possono essere utilizzati, con un po' di buona volontà e con una riflessione, adesso senza frettolosità, si possono benissimo individuare i 10 posti letto della nefrologia, senza modificare né i posti letto totali, né danneggiare nessuno, perché si tratta di non danneggiare nessuno. All'invettivo, ho capito, non so, faccio riferimento a tutto, perché sono circolate queste voci che credo che non siano nemmeno vere, per cui sarebbe sbagliatissimo ricreare nuovi allarmi sociali su dove si toglie, dove si mette. Ci sono, a mio avviso, se si riflette con attenzione, le condizioni per poter recuperare questi 10 posti, nell'ambito sempre dell'area medica. I malati vanno ringraziati perché hanno dato una risposta democratica, civile, ma si sono caricati di una grande responsabilità, quello di dare una risposta non solo alla città, di aiutare la città, ma all'intera provincia, facendo ritornare con la loro iniziativa, facendo riflettere soprattutto le istituzioni regionali dell'errore che stavano commettendo e facendo ritornare la nefrologia laddove meritava di stare. E' arrivato il fatidico giorno, domani 8 dicembre, si celebra il congresso nazionale del Partito Democratico che eleggerà il nuovo segretario del Partito. Ovviamente si vota anche a Crutone. Domani dalle 8 alle 20 si vota. Si vota per le primarie del Partito Democratico per eleggere il segretario. La scelta si fa tra tre personaggi nazionali, ma ci sono interessi anche locali. C'è il candidato Renzi, c'è il candidato Cuperlo e c'è il candidato Civati. A livello locale ci sono tre liste che sono state presentate. Si vota al Palamilone a Crutone, ma c'è già una piccola polemica per il voto, perché sembra che all'ultimo minuto abbiano deciso di aprire un nuovo seggio elettorale a San Francesco. Questa cosa qualche malumore l'ha creata. Perché? Perché mentre in tutta la città si va a votare al Palamilone, non si capisce, dicono, chi sta creando la polemica, perché aprire un seggio a San Francesco e perché lì bisogna portare qualcuno a votare e va solo lì. Insomma, la polemica c'è. Comunque, su questo voto di domani abbiamo fatto tre interviste. ai tre massimi rappresentanti, quelli che sono nelle liste, candidati nelle liste di Renzi, di Cuperlo e di Civati. E ve li mandiamo, così come l'abbiamo realizzato, prima il sindaco, poi abbiamo Dione Salve, che è un ragazzo, e poi l'ultimo che vediamo con Francesco Sulla, il consigliere regionale. Domani in tutta Italia, quindi anche a Crotone, si vota per le primarie, per la scelta del candidato alla segreteria nazionale del partito. Vallone è nella lista dei candidati che sostengono Renzi. Allora, per quale motivo gli iscritti del PD devono votare la lista Renzi? Ma io credo che, diciamo, quello che sta avvenendo in questi mesi, c'è un quadro chiaro della posizione di Renzi. Sul piano mediatico, per ora, speriamo che dal giorno Roma avvenga realmente, c'è la necessità di realizzare compiutamente che siamo in un secolo nuovo, e che i vecchi partiti che hanno avuto grossissimi meriti nel secolo precedente, ormai hanno una storia che non è più nella realtà del popolo italiano, non sono più rappresentativi di quello che accade. Non ci sono nemmeno più, quando noi scherziamo, diciamo, democratici, comunisti, però non esistono più... Realmente è avvenuto questo. Siamo nel secolo nuovo, i vecchi partiti hanno avuto meriti straordinariamente importanti nel vecchio secolo, ma in questo secolo credo che servono, diciamo, strumenti nuovi. Questa necessità di cambiamento in questo momento la sta interpretando in maniera sostanziale Renzi. E su questo auspicio, non è assolutamente una certezza, su questo auspicio è evidente che questa necessità di cambiamento, al di là della rottamazione, sì, rottamazione, no, poi quello è una conseguenzialità anche del rinnovamento, questa necessità di rinnovare non tanto gli uomini e non solo gli uomini, ma proprio lo strumento in sé, questa necessità Renzi la sta interpretando in tutti i suoi contenuti. Da qui, insomma, l'adesione da parte mia, ma non solo, naturalmente, da parte di numerosi, se sono vere, diciamo, le indicazioni che vengono anche a livello nazionale, diciamo, la maggioranza del partito del PD in questo momento crede e vuole e crede in questa esigenza di cambiamento. Questo vuole dire. Mi sembra che si siano attutite anche le polemiche scoppiate a livello provinciale, e non a livello nazionale, perché sta tutta una polemica provinciale dell'elezione del segretario provinciale. Ma io non ho detto una parola sulla polemica, nemmai aprirò ragionamenti su polemiche di questo genere. Possono esserci anche, possono verificarsi anche, nei percorsi che, in tutti i percorsi che avvengono, momenti di difficoltà, momenti di tensione, ma aprire polemiche, al nostro interno, avere tutti i chiari, ma aprire polemiche di questo genere, in cui diamo dimostrazione di una classe politica che litiga, litiga sempre su tutto, molto spesso senza nessuna ragione, e credo che questo sia proprio quello che accade nei cittadini italiani che ci vedono litigare in ogni occasione, in cui molto spesso potremmo farne a meno. Quindi credo che questa è la necessità di un confronto che sta avvenendo, la necessità di aprire ad un partito nuovo, e di tentare di mettere da parte i personalismi che sono spesso la causa di quello che i cittadini non vorrebbero mai vedere. Se si riesce ad avviare questo percorso, che non è semplice, dopo vent'anni di Berlusconi, non è assolutamente semplice. Se si riesce ad avviare questo percorso con convinzione, credo che imboccheremo una strada diversa, di aiuto al Paese e Italia che ne ha tanto bisogno. Davide Dino Salvi è il candidato della lista Civati all'elezione del PD, a questa competizione, a queste primarie, per la scelta del candidato segretario. Perché dovrebbero votare lei gli iscritti? Perché Civati offre l'unico spazio libero all'interno del Partito Democratico. Stiamo assistendo alla Costituzione di queste primarie, all'organizzazione, alla messa in campo, di una macchina guerreggiante. Perché ci sono altri due candidati, con altri tanti capolista, loro rappresentanti. I capolista sono tutti e due di conto. Uno è il sindaco Vallone e l'altro è Ciccio Sul, il consigliere regionale. Esattamente, esattamente. Che comunque rappresentano pezzi di partito importanti, figli di una tradizione abbastanza lunga, che è però radicata, è cristallizzata, secondo regole e secondo collegamenti, atteggiamenti, che comunque non fanno bene al partito. Se non ho capito male, lei dice, io sono la vera novità. E Civati è la vera novità di questo partito? Civati sì. Civati molto più novità di me, perché comunque soltanto voglio rappresentare le sue idee e la sua proposta sul territorio. Noi nella fase precedente, alle primarie dei tesserati, non abbiamo chiesto il voto. Abbiamo soltanto voluto vedere che cosa sarebbe accaduto. E' successo che 60 persone, senza che nessuno glielo dicesse, hanno preferito Civati. Già questo è un segnale importante, perché comunque fa capire che la voglia di cambiamento, seppure in piccole proporzioni c'è, che a Crotone, comunque qualcuno che liberamente vuole dare il suo contributo al partito c'è. Noi a queste persone ci rivolgiamo. Ci rivolgiamo a chi comunque ha subito spesse volte in maniera ingiusta dell'esclusione dal partito e che comunque avrebbe voglia di rientrare. Un partito inclusivo è la base per ristabilire comunque il contatto col territorio, con una società che sta andando in maniera diversa rispetto alla politica e soprattutto gli ultimi eventi nazionali ce ne danno dimostrazione. Domani si vota per l'elezione del segretario delle primarie, ma è un'elezione vera e propria dal segretario nazionale del partito. Ciccio Sulla è candidato in Calabria, apre la lista calabrese con la candidatura a segretario nazionale di Cuperlo. Perché i simpatizzanti, i tesserati del suo partito devono votare Cuperlo? Ma non solo i simpatizzanti e i militanti del partito. Io credo che anche tutti i cittadini che guardano con attenzione al Partito Democratico e che vogliono dare il loro contributo alla vita del partito credo che debbano essere convinti di votare una persona che non ha mai amato la scena al primo posto, nelle prime fila, ha sempre lavorato con grande serietà e può dare alla politica un senso, dare alla politica quei valori che ha smarrito in questo ventennio berlusconiano e credo che anche alcune malattie che il partito stesso ha acquisito di questo ventennio berlusconiano e che si intravedono molto nella politica di Renzi non appartengono alla natura, alla formazione di Gianni Cuperlo. Lei dice Renzi è un uomo più di destra che di sinistra, questo sostanzialmente sta dicendo? No, guarda, io non dico che di destra o di sinistra, io dico che usa un metodo, un linguaggio che è tutto esteriore. Cioè io, per fare un esempio, a me non interessa come il sindaco si reca al comune, se va in bicicletta o se va a piedi o se va con la Rolls Royce, a me interessa molto quello che fa nel comune, quello che fa per i cittadini. Cioè se poi ci va con la bicicletta per far vedere che si va con la bicicletta, a me queste forme della politica che sono tipicamente berlusconiane, che sono di una forma esteriore, molta gente è salita sul carro di Renzi perché, essendo esposto mediaticamente molto più di Cuperlo, perché tutti i grandi gruppi, dal gruppo dei Benedetti, Rizzoli, la Sky, se uno accende Sky, si vergogna, tutti i giorni non c'è altro che la ripetizione degli interventi di Renzi, nessuno da luce né a Cuperlo né a Civati, tutte le televisioni lo presentano come il probabile vincitore, lei sa che c'è questo termine che si usa in politica che è l'effetto trascinamento, cioè se uno sa che vince la gente tende a salire, l'abbiamo visto anche qui in Calabria, molti che non erano assolutamente con Renzi, che erano con Bersani, che adesso saltano sul carro del vincitore perché pensano che questo possa... A Crotone, più che in Calabria abbiamo visto pure a Crotone. Sì, a Crotone abbiamo registrato poi l'ultima posizione del sindaco, che insomma ha deciso all'ultimo momento di salire anche lui su questo carro, che secondo me appesantisce molto il carro di Renzi perché sul carro di Renzi sono solite persone che vanno in contraddizione con quella che è la sua filosofia. Insomma io non amo l'uomo solo al comando, io poi sono stato molto in Toscana, ho vissuto vent'anni della mia vita in Toscana, ho seguito il lavoro di Renzi alla provincia di Firenze, ero lì a Firenze, seguo quello che avviene a Firenze e mi pare che il lavoro discreto di un sindaco come tanti altri, non ho visto stravolgimento né alla provincia, quando ha fatto il presidente della provincia, né a sindaco. Quindi vedo molti slogan, fra l'altro lui parla come se fosse da solo, come se non ci fosse un'opposizione nel Parlamento, come se lui fosse il presidente del Consiglio con una straordinaria maggioranza, dice farò la legge elettorale così, darò un miliardo per questo, farò tre miliardi per questo, ma stiamo parlando del segretario del partito, non del presidente del Consiglio con la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Quindi io credo che bisogna abbandonare l'apparenza, perché questa forma di esposizione, di promessa, eccetera, è di affermazione di un uomo solo al comando, di quello che salva la patria, senza avere contenuti forti, secondo me l'abbiamo già pagata, perché di questi salvatore della patria, in questi vent'anni abbiamo visto molti, da Berlusconi a, che devo dire, tanti personaggi che poi hanno messo sulla lista il loro nome, Di Pietro o altri, che poi sono spariti, ma quando sono spariti hanno lasciato strascici terribili, danni enormi. Quindi io non vorrei che questo si riflettesse anche nel Partito Democratico, e sarebbe anche la fine dell'unico partito che oggi può assicurare alle classi meno ambienti una prospettiva di lancio, non appena si creano le condizioni. Allora, un'altra maniera la devo porre. Nella fase congressuale per l'elezione del segretario provinciale c'è stata una forte polemica. Mi pare sia affievolita ora, non se ne parla più. Che vuol dire che avete rinunciato a porre quella questione? Assolutamente no. Assolutamente no. Io le dico con molta franchezza. Noi abbiamo, in questo momento, stiamo guardando alla competizione per il segretario nazionale, e sulla questione provinciale abbiamo già esposto la nostra posizione. Non abbiamo avuto ancora risposte, ho sentito tante cose inesatte che sono state dette, che la Commissione nazionale, la Commissione regionale avrebbero bocciato. Non abbiamo avuto nessuna risposta, né ci preoccupiamo più di tanto di quelle risposte, noi sappiamo, e anche chi l'ha fatto, sa bene che i risultati sono stati cambiati il giorno dopo, e questa cosa non l'accetteremo mai. Per cui per noi non c'è avvenuta nessuna elezione di segretario, non riconosciamo nessun segretario, e se non si risolve la questione, noi nomineremo un segretario nostro, una segretaria nostra, una direzione nostra, e andremo avanti. Poi verrà Renzi, o Cuperlo, o chi vincerà la competizione, ad assumersi le proprie responsabilità qui a Crotone. Noi di certo non accetteremo che passino queste impostazioni. E anche questo spingerà molto nella scelta che stiamo facendo su Cuperlo o su Renzi. Io capisco che Renzi tira molto di più, perché la televisione e altri poteri lo stanno spingendo, e quindi diventa impari la battaglia. Però uno la deve fare con coerenza, non può cambiare perché vince o perde questo o quel candidato. Ognuno deve credere in quello che, appunto, sono i valori per i quali si spende tutti i giorni, e vince o perde va avanti. Io mi auguro che Cuperlo vinca, e comunque che abbia una grossa affermazione, perché da qui a qualche mese vedremo che le cose in Italia cambieranno, e Cuperlo darà il suo forte contributo a questo cambiamento. Dopo aver occupato ieri mattina via Mario Nicoletta, all'altezza della sede della provincia di Crotone, rientra la protesta dei lavoratori in mobilità del crotonese. Nel poveriggio di ieri è stato tolto il sit-in di protesta davanti alla provincia dai lavoratori in mobilità. E' stato tolto perché la Regione finalmente ha autorizzato il pagamento di un'altra mensilità. A Natale, quantomeno, potranno comprare il latte e i biscotti ai propri figli questi lavoratori. La cifra è autorizzata, ripeto, di una mensilità, si aggira tra i 500 e i 700 euro, ma darà un sollievo sicuramente a quelle famiglie disperate, disperate nel senso proprio classico del tema, nel senso che sono presi dalla disperazione di non avere i soldi per comprare il necessario. Una piccola riflessione su questa cosa. La Regione Calabria avrebbe dovuto pensarci anche prima, senza farli portare alla sesperazione, senza farli scendere in piazza ad occupare le strade, hanno rischiato anche di prendersi qualche quarela per questa iniziativa. Alla fine i soldi sono stati trovati, vuol dire che c'erano. Perché bisogna portare la gente all'esesperazione quando le cose si possono risolvere in maniera pacifica, quando i soldi possono essere tornati da qualche parte? Una tonnellata e mezza di marijuana è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza a bordo di un peschereccio bloccato a largo di Gallipoli, in provincia di Lecce. I tre componenti dell'equipaggio del peschereccio sono stati arrestati. L'imbarcazione è iscritta al compartimento marittimo di Corigliano Calabro con il nome maestrare. Il peschereccio è stato bloccato e scortato fino al porto di Crotone. Le indagini della Guardia di Finanza sono state coordinate appunto dalla Procura di Crotone. Stamane, giornate mediche pitagoriche, stili di vita e benessere. Prima edizione si è tenuta a Crotone. Giornate mediche pitagoriche. quest'anno l'Ordine dei Medici della provincia di Crotone all'ambito di questa iniziativa parla di stili di vita e benessere. Sì, diciamo che l'iniziativa va al di là del tema e dell'evento congressuale. Vuole essere un momento di riflessione per quello che dirò nel senso che noi ultimamente negli ultimi consigli soprattutto di questo 2013 un po' tormentato dal punto di vista delle problematiche sanitarie come a tutti noto poi non è mancato nel consiglio direttivo di fare delle riflessioni un po' più ampie più generali dove si constatava come effettivamente si sta attraversando un periodo di demotivazione un po' generale oltre che professionale probabilmente perché gli eventi hanno un po' compresso quelle che potevano essere aspettative di vario genere non soltanto professionali ma anche probabilmente sociali lo stile di vita lo stile di vita dipende anche vuole dire dalla situazione economica che uno vive se sta bene economicamente acquista prodotti di qualità se sta male si deve arrangiare questo è un aspetto però il percorso il contenitore è più ampio e arriviamo anche al perché di questo evento per cui avevamo pensato che per dare per sollecitare non solo la categoria ma la popolazione in genere i nostri concittadini le istituzioni a dare una risposta a questo stato di crisi non so se dire di valori ma di motivazioni quantomeno è da costo zero poter fare una cosa importante a costo zero poteva essere utile un po' riscoprire o rilanciare o progettuare un qualche cosa che avesse affondasse le radici nelle nostre tradizioni storico-culturali e quindi cosa scontata ma più ovvia e più naturale era quello di rilanciare le nostre tradizioni magno-greche quindi con la scuola pitagorica e credo che l'ordine dei medici ne abbia titolo è anche obbligo dovere a dover riproporre queste tradizioni illustri a tutto il mondo vi assicuro che la nostra questa realtà queste tradizioni che ci derivano dalla magna-grece dalla scuola pitagorica sono molto più celebrate e coltivate e conosciute nel resto del mondo del mondo mangiare bene e fare esercizio fisico ecco è un aspetto importante che fa che fa fa parte di quella visione olistica multidisciplinare multiscientifica del pensiero pitagorico io non sono un conoscitore della materia però proprio perché questa iniziativa cioè noi ci proponiamo di avviare un percorso che possa partire da questo evento ma che possa avere un coinvolgimento più ampio e dare luogo a delle iniziative a una progettualità in questo senso di ampio respiro che investa chiunque chiunque abbia interesse voglia e titola a dare un contributo e allora andiamo all'evento si era pensato che per coniugare questa tradizione con alcune esigenze di tipo appunto culturali e formative incominciare questo percorso a parlare di stili di vita fosse un momento di coniugazione e di coinvolgimento importante non solo perché il pensiero pitagorico e la scuola pitagorica fondavano molto della loro missione del loro pensiero proprio su questi aspetti l'aspetto sportivo come ha detto lei poc'anzi l'aspetto lo stile di vita l'alimentazione ma anche perché riportato ai tempi nostri nei tempi di risorse abbastanza limitate soprattutto nella sanità non soltanto da noi per il periodo di piano di rientro che stiamo vivendo ma vi assicuro generale anche nei paesi virtuosi nelle regioni virtuose la problematica è molto molto pesante allora pensiamo che la risposta migliore anche dal punto di vista socio-sanitario ed economico sia quella di potenziare gli strumenti terapeutici attraverso la prevenzione la prevenzione secondaria terziaria che è la parte di prevenzione più ampia che noi facciamo che è già il trattamento deve invertire deve lasciare il rapporto deve essere invertito con la prevenzione primaria se noi investiamo in prevenzione primaria non soltanto facciamo bene alla nostra alla società e facciamo bene a noi stessi ma facciamo bene anche al progetto sanità che sapete bene con tutti i tagli 22-23 miliardi di tagli alla sanità negli ultimi 2-3 anni tutte le regioni comprese diciamo quelle più virtuose hanno dichiarato che ad invarianza di LEA cioè se non si modificano i livelli essenziali di assistenza nessuna regione sarà capace di poter garantire questi livelli assistenziali quindi puntare sulla prevenzione credo sia importante e Crotone della Calabria il Mediterraneo il bacino del Mediterraneo è un laboratorio naturale con la nostra dieta avete sempre sentito parlare della dieta mediterranea è un laboratorio naturale privilegiato per questa progettualità proprio perché promuove un'alimentazione degli stili di vita che bene si adeguano a questo progetto tenete presente che negli studi di longevità potenziale già noi abbiamo oggi una speranza di vita che è abbastanza buona per le donne più che per gli uomini gli uomini la vita media è intorno ai 78-79 anni le donne 83-84 anni in questi studi di longevità potenziale vanno una proiezione secondo la quale nei prossimi 50-100 anni la vita media per molti saporerà i 100 anni tant'è vero che l'European Commission apposita per questi tipi di valutazioni epidemiologiche pochi mesi fa nel 2012 insomma ha pubblicato dei report secondo i quali entro 2050-2060 il 30% della popolazione avrà questo target e quindi è importante che noi pensiamo in maniera lungipirante ci pensiamo intervenendo su questi elementi che sono quelli che possiamo fare a costo zero grazie saranno ospitati in strutture sul territorio nazionale che hanno dato disponibilità al comune 19 minori tratti in salvo la scorsa settimana nel porto di Crotone dalla guardia costiera le operazioni di trasferimento si sono concluse stamane i minori che si trovavano sul balcone sul balcone scusate che per ora a causa del maltempo dei giorni scorsi si è trovato in balia delle onde a largo della costa ionica calabrese sono stati accolti immediatamente dal comune di Crotone la prima notte in città i ragazzi l'hanno trascorsa in una struttura alberghiera dei cui costi si sono fatti carico direttamente il sindaco ai componenti della giunta comunale successivamente in collaborazione con le associazioni di volontariato è stato allestito un centro di accoglienza presso la palestra dell'istituto scolastico Rosmini il sindaco Vallone in questi giorni è stato in stretto contatto con la prefettura di Crotone ed anche con il supporto delle associazioni di volontariato è stata trovata l'adeguata sistemazione dei minori che sono prevalentemente di origine egiziana un monumento al ricordo delle vittime della strada statale 106 questa mattina presentiamo un'opera un'opera che rappresenta le vittime della strada sulla 106 lo facciamo vedere a Nanna Moruso che l'ha voluta questa opera allora chi l'ha realizzato questa opera? come Movimento Vito abbiamo commissionato al maestro Cersosimo questo monumento da dedicare a tutte le vittime della 106 sono degli angeli rappresentano sono tre angeli che vanno verso il cielo e questi sono ai piedi ci sono le famiglie diciamo delle vittime che piangono disperate piangono i disperate piangono diciamo i loro cari che sono caduti su questa strada che è chiamata strada della morte che ormai è diciamo una battaglia che sto portando avanti da oltre 10 anni e quindi questo monumento che rappresenta proprio diciamo il simbolo dei caduti su questa strada una vera e propria guerra no? una guerra sì è un suicidio è una guerra ma anche per dare un segno alle famiglie diciamo che hanno perso un loro cari di lasciare un fiore di dire una preghiera ma nello stesso tempo per toccare anche quelle che è la coscienza di tutti gli amministratori che si sono succeduti e che non hanno inteso dare un segno per questa strada cioè nel 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 fare diciamo un un adeguamento adeguato con i mezzi di trasporto di oggi sono 10 anni che io mi batto sono 10 anni di incatenamento sia sulla 106 sia al ministerio delle infrastrutture e sia davanti a Palazzo Chigi quindi è un sogno da realizzare questo monumento dove sarà allocato? avevate pensato prima dei fratelli bandiere prima avevamo pensato di collocare questo monumento all'interno dei fratelli bandiere del monumento dei fratelli bandiere dei fratelli bandiere ma il comune mi rispose dicendo che trattandosi di un monumento nazionale logicamente poi riflettendo ecco sono d'accordo anche col comune di Crotone perché non quindi dove lo quindi adesso c'è una conferenza dei sindici sono stati invitati tutti i sindici per vedere chi è disponibile di cedere un appezzamento di terreno non sul ciglio diciamo della 106 ma diciamo all'interno vediamo un po' e si decide la localizzazione dove può darsi a Isola può darsi a Crotone può darsi a Ciro a Crucole vediamo un po' sembra che ieri ci sia stata la disponibilità del sindaco di Crucole il dottore Sicilia che è disponibile di cedere un appezzamento di terreno vediamo un po' la posizione se sono d'accordo anche gli altri perché non è che deve essere collocato qua e là chi dà la disponibilità quindi per me collocarlo a Crotone collocarlo ad Isola a Cutro per me è la stessa cosa ma è un'opera che ci sto lavorando e che deve essere realizzata in memoria di tanta gente di tante vittime che sono cadute su questa strada attraverso un comunicato la Confcommercio di Crotone esprime la propria solidarietà all'imprenditore e consigliere Confcommercio Francesco Valles per l'atto intimidatorio subito nei giorni scorsi manifestando tutto il proprio sostegno a lui e ai suoi familiari in seguito alla forte mareggiata che nei giorni scorsi ha interessato tutto il litorale ionico crotonese la Lega Navale di Crotone ha promosso un incontro dedicato alla messa in sicurezza del Porto Vecchio della città sentiamo il nostro Presidente della Camera Capitaneria di Porto il Presidente di altri circoli e tutti gli uomini di mare penso che gravitano intorno a Lega Navale siamo stati sollecitati dal maltempo dell'ultima settimana mettere un porto in sicurezza vuol dire far stare bene le barche nel bacino portuale vuol dire non far rischiare e dico nel senso reale dei termini le maestranze che si prendono cura delle barche noi abbiamo avuto due uomini in mare quest'anno l'anno scorso altrettanto ed è andata bene un incontro con le autorità preposte che ci dicono ci tranquillizzano spero sull'esito sul procedere dei lavori che dovranno essere fatti qui al bacino del porto vecchio per la messa in sicurezza del porto stesso certo messa in sicurezza significa tranquillità per le barche che soggiornano da noi tranquillità per gli operatori del porto stesso e poi significa anche poter guardare un attimo più più lontano significa che si può pensare ad un turismo più stanziale che si può pensare a qualcosa che sia utile che sia efficace per la nostra città un turismo che quindi può avvenire solo con questa messa in sicurezza direte di sì il porto per definizione deve essere un luogo sicuro e se non è un luogo sicuro dove lasciare la tua imbarcazione perché rischia di andare a fondo perché è venuta la mareggiata e allora fa sì che non sarà mai scelto da coloro i quali possono lasciare in acqua le barche per l'inverno per poi riprenderle l'estate successiva le barche per il nostro naviglio per il naviglio del porto vecchio e per la massima la Calabria si conferma al sedicesimo posto nella classifica della produzione di vino in Italia con 372.400 ettolitri annui per una superficie vitata che raggiunge gli 11.091 ettari e questo uno dei dati che emergono dall'analisi del settore in Calabria realizzati in occasione della presentazione del convegno espositivo viticoltura enologia che si svolgerà a Padova il prossimo 12 dicembre la palma di principale doc e appannaggio del Ciroc si attesta al 73,5% del totale della produzione seconda posizione per terre di Cosenza al 6,80% e terzo il melissa al 6,08% al via oggi la mostra personale del pittore Antonio Giampà presso la sala Borsellino del palazzo della provincia di Crotone abbiamo colto sul fatto però non è un reato quello che sta commettendo no assolutamente è un pittore è un dentista pittore lo diciamo è un nostro amico è un dentista prestato alla pittura alla pittura oggi sta allestendo questa mostra la sta allestendo siamo proprio nella fase di allestimento questa mostra nell'androne della provincia si è una mostra che ha voluto organizzare l'ex assessore Lentini presidente dell'associazione Odissea lui che ci tiene molto ci tiene molto all'arte mi ha trovato pienamente d'accordo per cui io avevo un po' di opere a casa e abbiamo cercato in fretta e furia di organizzarlo per queste feste di Natale però ancora c'è molto da fare dal punto di vista pratico c'è la moglie che la sta aiutando sono circondato da donne attive allora cerchiamo di capire come sono quali sono i soggetti di cui si interessa sicuramente questa non è tutta la mia produzione però abbiamo cercato di fare d'accordo con la professoressa Russano che mi presenterà alla mostra che mi ha fatto una recensione di prendere diciamo le nature morte che rappresentano più i luoghi dove viviamo il nostro territorio i paesaggi sulla strada tra Papanice e Cutro una pineta che prima era foltissima adesso purtroppo ci hanno messo fuoco è andato in fuoco quindi paesaggi con gli ulivi paesaggi da mortilla delle nostre parti è un paesaggino di Lorica lì a terra quindi paesaggistica natura morta ci sono la natura morta fichi diciamo che con queste opere mele col brocco la mele col brocco frutta e verdura frutta e verdura vitamine e poi i paesaggi legati a Papanice dove lui è anche la sila è la sila nel nostro territorio qualche cosa e qui invece c'è un saggio di quello che riesco a fare col disegno con la matita quindi ho voluto mettere un po' di opere che rappresentano un po' tutta la tipologia di produzione che faccio e poi ci sono dei figurativi che io sono nato come figurativo quindi quelle figure lì sono dall'altro lato e quindi c'è la figura di questo anziano beduino etiope che guarda lontano infatti si chiama mentre beve il tè si fa una pausa col tè poi ci sono dei nudi sui quali mi sono direttato con l'anatomia femminile e poi ci sono altri paesaggi che rappresentano un po' le varie stagioni nostre c'è un paesaggio primaverile uno estivo insomma e questo diciamo che rappresentano globalmente tutta la tipologia di produzione che faccio domenica 8 dicembre per la rassegna teatro per famiglie andrà in scena al teatro della Maruca di Crotone tele in visione primo spettacolo 17 e 30 secondo 19 lunedì 9 dicembre alle 11 presso la sera giunta della provincia di Crotone avrà luogo la firma congiunta di una convenzione tra l'ente intermedio nella persona della vicepresidente Pietro Durante e i dirigenti degli istituti scolastici umile Meringolo per i psia barlacchi e Maria Pia Ferrante per il polo di Cutro l'accordo è finalizzato a definire l'insieme degli interventi e delle azioni che la provincia di Crotone attraverso i centri per l'impiego e le scuole realizzeranno congiuntamente manifestazione di protesta avrà luogo lunedì 9 dicembre a partire dalle 9 davanti alla questura di Crotone proseguirà fino a mercoledì prossimo la manifestazione organizzata da tutte e otto le sigle sindacali di categoria che hanno inteso organizzarla per far conoscere i cittadini il grave disagio che stanno vivendo i poliziotti crotonesi in questo periodo siamo giunti alle previsioni del tempo su Crotone e provincia per domani si prospetta parzialmente nuvoloso visibilità ottima e vento di 10 nodi 13 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo 6 gradi la minima ed ora il bollettino nautico del Marrionio tempo vento da nord ovest forza 7 in rotazione da nord e in rinforzo a 8 isolati temporali in attenuazione visibilità discreta mare mosso e rapido aumento tendenza vento da nord forza 6 sereno o poco nuvoloso bene la nostra informazione per oggi termina qui grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni